Non c'è cosa peggiore di un comico che non fa ridere. Pensate nel Medioevo. Il re si sentiva urtato per chissà quale faccenda di Stato e la sera a cena voleva rilassarsi. Brutta faccenda ai tempi dei castelli tutti in pietra senza una Barbara d'Urso a portata di telecomando pronta a spiattellarci l'ultimo pettegolezzo. Niente collegamenti con l'altro capo del mondo con una Ilari che tenta di seminare zizzania in un gruppo di disperati lasciati senza mangiare per aumentare l'esasperazione e rendere più estremo e imprevedibile lo spettacolo delle reazioni umane. Nulla di tutto questo per il re. Solo un buffone che aveva l'ingrato compito di farlo ridere e se capitava nella giornata sbagliata finiva pure che gli tagliavano la testa. In tempi più recenti è piena la letteratura di racconti con comici entrati in crisi e scesi dal palco perché il mondo intorno a loro è cambiato e non sono riusciti a sintonizzarsi. Ridere dopo tutto è un paradosso. Occorre logica, intelligenza, ironia. Se non sai cogliere quell'elemento che capovolge tutto non scatta la risata. Immaginate la tragica fine del comico lungo su un lettino mentre spiega al suo analista perché non è stato più capace di comprendere ciò che accadeva intorno a lui e farsene beffe. Triste. Tranne in un caso. Quello del signor Christian Jensen, celebre presentatore televisivo e comico della tv inglese. È il signore che a marzo del 2020, mentre nella Bergamasca e nell'Odigiano la gente iniziava a morire come i moscerini spiattellati sul parabrezza in estate, lui disse in tv che gli italiani stavano esagerando e volevano il lockdown per continuare beatamente a non fare niente. L'altro giorno ha lanciato un appello. È in bancarotta. Gli inglesi si sono accorti che c'era ben poco da ridere, anzi che avrebbero fatto bene ad ascoltarci più in fretta. Ha lanciato una raccolta di fondi. È andata bene. Nel medioevo, dalle sue parti, ai buffoni che non facevano ridere, andava molto peggio. Ma per Christian Jensen la cosa peggiore è stata scoprire che il mese prossimo in Italia ci toglieremo la mascherina. Noi non siamo un popolo di celtroni e lui è un comico che non fa ridere. Senza ricevuta di ritorno.